Si è tenuto ieri l'ultimo consiglio comunale del mese di aprile nel comune di Castellabate dove si è discusso del bilancio di previsione. A parlarcene in un'intervista il primo cittadino Costabile Spinelli. Nella seduta di ieri 18 aprile abbiamo approvato il bilancio di previsione per il 2019, il triennio 2019, 2020, 2021, strumento importante, lo strumento principale nella vita amministrativa di un ente locale. Sono molto soddisfatto perché nonostante i momenti difficili in cui versano gli enti locali siamo riusciti ad approvare un bilancio credo in linea con le aspettative della nostra comunità, una comunità che è in crescita costante e col quale questo bilancio ci consentirà di erogare, di continuare a erogare servizi eccellenti ai nostri cittadini come stiamo facendo e come continueremo a fare senza incidere, senza modificare le tariffe. Mi riferisco ai servizi a domande individuali, non ci saranno aumenti nella mensa scolastica, nel trasporto scolastico, nel piano Tari dove abbiamo approvato il piano Tari anche con la difficoltà di questo servizio però grazie alle economie che noi abbiamo realizzato con l'affidamento quindi siamo riusciti a mantenere nonostante la legge impone accantonamenti importanti che noi abbiamo fatto, nonostante tutto a mantenere inalterate le tariffe quindi la tassa di soggiorno che resta invariata, il servizio dei parcheggi quindi sostanzialmente un mantenimento di quello che era già diciamo quello che era l'ossatura insomma stabile del bilancio comunale. In più abbiamo programmato opere pubbliche importanti che nel 2019 avranno inizio per più di 10 milioni di euro, il polo scolastico, il porto, i gatti, la bonifica, il piano Melaino quindi opere che sono già esecutive, già pronte, che partiranno, che vedranno la partenza diciamo nel corso di quest'anno. Questo bilancio ci ha consentito anche di programmare novità sul fronte del personale, stiamo facendo dei concorsi che sono attualmente diciamo che sono in fase di espletamento, il 30 aprile ci sarà la prima selezione quindi sui concorsi che fanno parte della programmazione precedente e altre programmazioni abbiamo fatto a partire dalla modifica del contratto degli agenti di Polizia Municipale che avevano un contratto 33%, abbiamo previsto le risorse e quindi modificato questi contratti e altre novità sul ricambio anche generazionale della macchina amministrativa abbiamo programmato che consentiranno, speriamo, a tanti giovani, ad altre figure nuove di poter accedere nella vita pubblica, nella macchina amministrativa, approfittando anche di questo momento storico in cui c'è un cambio generazionale anche alle misure, mi riferisco a quota 100, agli sgravi le possibilità di accedere ai pensionamenti da parte degli enti locali. E poi cosa altrettanto importante che mi piace sottolineare con questo bilancio, io l'avevo detto, l'avevo annunciato e ci ho lavorato proprio per destinare delle risorse, quindi abbiamo previsto uno stanziamento di risorse per mitigare un po' l'effetto dovuto al passaggio del sistema idrico e idrico integrato al soggetto gestore. Come sapete dal 1 gennaio al Comune di Castellabate la gestione è affidata a CONSAC come obbligo di legge, d'altra parte, e quindi abbiamo appostato delle risorse proprio per accompagnare, agevolare questa fase in maniera tale che l'impatto del passaggio al nuovo sistema tariffario sia meno impattante per le famiglie e per i cittadini, quindi per le utenze domestiche. Era un impegno che io avevo preso anche nel Consiglio Comunale del dicembre scorso quando si decise, quando si votò il trasferimento al soggetto gestore e in questa fase di approvazione del bilancio abbiamo mantenuto questo impegno appostando delle somme che poi verranno utilizzate proprio per questa finalità. E quindi da dire un bilancio che è in linea, che ci rende soddisfatti, che ci fa continuare a lavorare da questo punto di vista sta cercando di portare al meglio e di elevare ancora di più la qualità dei servizi, stiamo lavorando molto su questo, le cose che si stanno facendo in Paese sono visibili, siamo impegnati sui fronti della programmazione, della pulizia, del rispetto dell'ambiente, l'illuminazione stiamo modificando e stiamo ammodernando tutti gli impianti di pubblica illuminazione con un impatto evidente dal punto di vista della qualità e dal punto di vista del risparmio energetico che si va ad aggiungere alle colonnine della ricarica delle auto elettriche, alle casette dell'acqua e a tante misure che abbiamo messo in campo in questi mesi e che cominciano a materializzarsi, ad essere un segno tangibile per le tante persone, per i tanti turisti che affoleranno le nostre comunità e il nostro Paese già in questo primo weekend, in questo lungo ponte del 25 aprile, fra il 25 aprile e il primo maggio. Quindi noi stiamo lavorando per essere pronti, cerchiamo sempre di esserlo e speriamo di riuscirci. Io vi saluto, vi lascio e vi auguro una buona Pasqua a tutti i telespettatori di Cilento Channel con augurio sereno di una Santa Pasqua e per chi decide di venire in vacanza nel nostro territorio, di godere di giornate belle e tranquille in un ambiente, in una comunità accogliente. Auguri di buona Pasqua a tutti.